No a governicchio di tutti. Di Maio lo gela, mai con Berlusconi. Il leader della Lega Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico e ribadisce il suo no a un governicchio di tutti, sono disponibile a mettere insieme un esecutivo, ma quelli di tutti giusto per fare poco o niente non mi piacciono, afferma a margine di una visita ad Euroflora in Liguria. E, a proposito di legge elettorale, aggiunge che basterebbe una piccola modifica, non siamo disponibili a inventarci una nuova legge elettorale. Chiunque dica che bisogna ricominciare da capo vuol dire che vuole perdere due anni. Bisogna aggiungere una riga per far governare chi ha preso un voto in più, con un premio di maggioranza non mi interessa se per la coalizione o per la lista. Ma la linea della riapertura delle trattative con il M5S, condivisa anche dal neopresidente del Frioli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, viene subito bloccata da Luigi Di Maio. Che lo attacca su Twitter, non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto. E' posta una dichiarazione del leader leghista del 2012 in cui Salvini dicevano a possibili assi tra Carroccio e il Cavaliere, nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi. Aspettiamo la decisione del presidente Mattarella, siamo fiduciosi, confidando nella sua saggezza, afferma Fedriga a Circo Massimo su Radio Capital, poi speriamo si passi al forno delle responsabilità. . Ipotizzo un riavvio della trattativa di tutto il centrodestra con il Movimento 5 Stelle senza veti, spiega, il PD ha portato avanti politiche opposte alle nostre, non vedo compatibilità. Altrimenti l'unica strada è il voto dopo aver cambiato la legge elettorale. Ieri, la novità della giornata è venuta da Giancarlo Giorgetti. Il capogruppo della Lega alla Camera, nonché braccio destro di Salvini, ha confermato che il Carroccio non intende seguire Di Maio nella corsa precipitosa al voto, ma neanche dare soddisfazione a Silvio Berlusconi che insiste per un incarico al centrodestra convinto di trovare i non pochi che mancano in Parlamento. A Salvini non piacciono soluzioni incollate con lo scotch, come trovare di volta in volta 40-50 parlamentari, per permettere di sopravvivere giorno per giorno, ha assicurato il capogruppo leghista. Giorgetti non ha però chiuso la porta alla possibilità di partecipare a un governo anche con M5S che modifichi la legge elettorale. Naturalmente con un paletto ferreo, si deve tornare a votare in tempi rapidissimi. Patti chiari, amicizia lunga, governo corto, ha aggiunto. Sulla stessa linea anche l'ex governatore Lombardo Roberto Marroni, consiglio ai due giovani leader Salvini e Di Maio di prendere in mano la situazione e fare un accordo per riscrivere subito la legge elettorale con premio di maggioranza e doppio turno. Secondo l'ex ministro dell'interno, solo dopo una legge elettorale si potrà tornare alle urne. La data buona è domenica 7 ottobre, aggiunge con una legge elettorale votata da Lega IM5S. E quanto al centro-destra lancia una proposta, si potrebbe pensare a una forza Lega con Salvini Premier, sarebbe un modo per tenere tutto insieme.